E' polemica a campagna dopo la comparsa in pieno centro storico di un murales rudimentale recante un teschio sbarrato ed il messaggio stai attento Salvini. A lanciarsi all'attacco il circolo locale della Lega che oltre ad esprimere la sua rabbia su Facebook ha annunciato una denuncia alle autorità competenti. Un episodio che rischia di caricare di tensione la già calda atmosfera in vista del raduno leghista che si terrà proprio a campagna il 29 ed il 30 settembre.